Oggi ci facciamo aiutare da un grande scrittore francese, una volta anche inquieto, caustico, ma veritiero e profondamente, direi, credente. E credente perché è innamorato di Maria. George Bernanotte, il famoso autore del diario di un curato di campagna, da cui prendiamo proprio questo brano che leggeremo oggi, un brano che ci aiuta ancora una volta a riflettere e a vedere la nostra vita, a vedere l'altro, a vedere la mia giornata, a vedere il mondo, a vedere tutto quello che accade dentro di noi e fuori di noi, con gli occhi di Maria, con gli occhi della nostra mamma. Ma ascoltiamo che cosa scrive a proposito dello sguardo di Maria George Bernanotte. Dice, lo sguardo della Vergine è il solo sguardo veramente infantile, il solo vero sguardo di bambino che si sia mai levato sulla nostra vergogna e sulla nostra disgrazia. Sì, piccino mio, per ben pregarla bisogna sentire su se stessi questo sguardo che non è affatto quello dell'indulgenza, perché l'indulgenza si accompagna sempre a qualche amara esperienza, ma della tenera compassione, della sorpresa dolorosa, di non si sa quale altro sentimento inconcepibile, inesprimibile, che la fa più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita, e benché madre per grazia, madre delle grazie, la fa la più giovane del genere umano. E nel linguaggio di George Bernanotte molto profondo, è non sempre di facile comprensione, eppure questo testo ci apre uno squarcio sulla nostra fede in Cristo e sul ruolo di Maria nella nostra fede unico. Ci dice che lo sguardo di Maria è uno sguardo di tenera compassione, ed è questo sguardo di tenera compassione che ci aiuta a cambiare, che ci aiuta appunto a guardare sì ai nostri peccati, alle nostre miserie, alle nostre disgrazie, alle nostre infedeltà, ma che ci aiuta ad assaporare, direi, i sentimenti di Maria ci aiutano ad assaporare i sentimenti di perdono, i sentimenti di accoglienza, i sentimenti di disponibilità da parte del Signore. Ecco, lasciamo che questo sguardo di Maria ci penetri il cuore, ed è l'augurio che faccio oggi a te e a me. Io vi aspetto domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti.